non mi consiglio di andare non mi consiglio di andare vedi se ci riesci se ne riesci ce ne hai dietro quello ma al baffanello mmmm bella bella eh, visto c'è le hack eh, agente che taglia le hack ragazzi è di fuori ma se ti hanno un hack guarda le città guarda visto? guarda le città non ti credo, ma porca troia bravito ma sei da no, non lascia se abbiamo blondato cos'era quella vina uno, due, vinto bella, lascio un po' mmm devo mettere un po' no, ho detto abbiamo avuto la maglia del test stupro stupro non lo facciate non lo facciate guarda, venite, venite, venite venite, venite, venite pigliatelo, pigliatelo dovrei andare in positivo io eh adesso andiamo a devo passare non ci cadete, ma non lo faccio non ci fai, ragazzi ma tu ti tirerà nooo, quello ci... uno, 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 uno struttura uno, uno, uno uno struttura uno, uno uno il 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 a la 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 guarda guarda cip cip